Di spiacere per quanto riguarda il famoso Marco Berinelli, infatti i soy Hawks pensate che sono stati nuovamente sconfitti. Dopo un gran successo contro i New York Knicks, Atlanta si arrende a 112 e 78 ai Toronto Raptors subendo la sedicesima sconfitta purtroppo che riguarda la loro stagione. Vi ricordo che sono in totale 20 le gare che sono state svolte e che si sono regolate in modo abbastanza regolare. Scappava perdita che in qualche maniera porta Buden Soldier a relegarsi in una posizione non delle più buone penultimo posto nella Conference Eastern. A dover scontrarsi contro gli Atlanta davanti al pubblico della Phillip Arena ci saranno appunto i canestri per Toronto 12-7 di Norman Power. 17 punti complessivi, Valanciunas, Jonas 16 e Kyle Lowry ben 15. A gara finale 6 giocatori che si trovano in doppia cifra. Gli Hawks sotto 67-39 all'intervallo lungo e sembrati mai capaci di recuperare il ritardo da però noverare i 14 punti di DT Shredder. 10 punti a referto e 2 assist ma anche un rimbalzo per Benelli con 22 minuti. Il video termina qua. Iscrivetevi e commentate. Mi dispiace per Marco Benelli. Un saluto e a presto.